I televisori Samsung della serie JS8500 sono smart tv dotate di pannello led curvo super ultra HD. Questi tv sono dotati del design curvo di Samsung in cui la cornice ultra sottile dona una sobria eleganza al tuo salotto. Inoltre la curvatura dello schermo è stata studiata in modo da regalare allo spettatore un effetto di profondità e un punto di vista sorprendente da ogni angolo di osservazione. Il retro del tv è come al solito dedicato alle porte di comunicazione ingressi ed uscite sono numerosi e consentono di interfacciare facilmente e di modo intuitivo il dispositivo con apparati esterni. I tv super ultra HD di Samsung della serie JS8500 montano un display a led in cui la ricchezza dei dettagli è esaltata dal potente processore quad core ultra HD upscaling e dalle diverse tecnologie per il miglioramento dell'immagine come Auto Depth Enhancer che ottimizzando il contrasto aumenta la profondità delle immagini o Clear Motion Rate che migliora anche le scene più veloci rendendole più chiare e definite. Il tutto si traduce in immagini estremamente dettagliate con una gamma ancora più ricca di colori e sfumatura. Inoltre tramite l'esclusiva tecnologia Nano Crystal Color il pannello di retroilluminazione produce una luce ultra luminosa che dona colori ricchi e realistici neri più intensi e bianchi più puri. Davvero tante sono le funzionalità offerte dalla Smart TV che vi consentirà un facile accesso ad internet mediante cui sarà possibile navigare, guardare film in streaming, sfogliare le notizie, chattare sui social network o addirittura giocare in compagnia. La nuova interfaccia è incredibilmente intuitiva e con Samsung Easy Sharing puoi condividere facilmente i tuoi contenuti in maniera immediata semplicemente avvicinando il tuo dispositivo Smart TV con una risoluzione impeccabile e una sincronizzazione perfetta. Inoltre la tecnologia Smart Interaction ti consente di gestire il tuo TV con avanzate funzioni interattive come il riconoscimento vocale e il controllo del movimento. Sarà persino possibile accedere allo Smart Hub utilizzando la funzione di riconoscimento facciale grazie alla videocamera integrata. Samsung JS8500 è una Smart TV all'avanguardia e dal design elegante, un dispositivo adatto ad ogni soggiorno ed ideale per gli amanti dell'intrattenimento che non vogliono rinunciare proprio a nulla.